Siamo qui stasera al baretto Ivo di Recco in compagnia dei Bidzone, in particolare con Giulio Belzer e Emilio Ranzoni e in più manca un terzo, un batterista, Marco Pesenti che salutiamo. Vogliamo partire da te Giulio e raccontarci chi sono i Bidzone. Innanzitutto non è un caso che stasera siamo qui perché si festeggia il cinquantesimo anniversario di Sgt. Pepper. Come è nata quest'idea dei Bidzone? Dunque i Bidzone si dice sempre nasce per caso ma siamo nati in effetti per caso perché noi dovevamo riempire un buco di scaletta di un saggio della scuola dove lavoriamo tutti e tre cioè della Music Art di Rapallo e abbiamo pensato perché no visto che ne avevamo già parlato con Emilio di mettere insieme qualche brano dei Beatles, riarrangiarlo e magari farlo in versione acustica che è una cosa che entrambi piaceva come idea. Dopodiché si è unito anche Marco a suonare la batteria e l'idea ci è piaciuta così tanto che abbiamo detto perché non provare a farlo quest'estate anche e ora è già tipo la quarta estate che lo facciamo quindi direi che siamo contenti di come è andata. Mi piace davvero tanto perché sia la quarta estate. Posso fare un inciso, Music Art non a caso è una scuola che con T Web News abbiamo recentemente intervistato, salutiamo anche l'Art Director Pier Gonnella e da cui appunto provengono poi anche diversi artisti che vedrete in seguito. Raccontaci gli sviluppi, sono molto curiosa anche di sapere i progetti futuri. Dunque innanzitutto la cosa interessante è anche il presente, tu hai parlato del cinquantennale di Sargent Pepper che è vero è una cosa che noi stiamo festeggiando in maniera particolare cioè andando a festeggiare l'aspetto più orientaleggiante della loro musica perché da quest'anno abbiamo iniziato a girare anche in una versione alternativa in quartetto con l'aggiunta di Emanuele Milletti al sitar con il quale proponiamo uno spettacolo alternativo a quello che ad esempio faremo stasera che è quello più classico pop e rock ma ne faremo uno con uno stile più indiano. Abbiamo già fatto un po' di serate in teatro perché è una situazione anche piuttosto giusta come per il teatro quindi stiamo portando avanti questo nuovo progetto che è il nostro modo di festeggiare i cinquant'anni di Sargent Pepper dando importanza alla commistione tra le due culture che raggiunse l'apice con quell'album praticamente. Infatti, ricordiamo anche la versione vinile anche ritagliabile non so se ce l'hai in casa però è degno da ricordarla perché anche... Con i baffi di plastica da applicarsi in faccia per diventare anche tu Sargent Pepper. Ma hai rubato anche questa cosa che volevo dire io dei baffi di plastica ma beh, insomma, ci sta, ci sta. Ha cambiato la storia quindi una certa importanza ce l'ha. E' interessante anche il fatto che sia tornato prima in classifica in Inghilterra dopo cinquant'anni guadagnando la ventottesima settimana al numero uno dopo cinquant'anni da quando è uscito quindi qualcosa vuol dire penso. Sicuramente. Anzi, mi sento anche in dovere di dire sicuramente i lettori l'avranno letto l'aspetto del legame con i Beatles perché ho citato Frida Kelly la famosa segretaria dei Beatles che ha reso veramente indimenticabili questo gruppo con la sua dedizione passione e ricordiamoci anche che non c'era Facebook, non c'era Twitter, non c'era Instagram Era lei Facebook in persona e dieci anni veramente di dedizione a questa donna e gliene diamo onore e l'ho voluta anch'io ricordarla in un articolo Mentre Emilio, cosa ci vuoi raccontare? Innanzitutto da dove provieni anche tu e come ti sei appunto integrato nei Beatles? Io provengo, diciamo, l'origine, la radice è tutta lì, tutta in Music Art quindi anch'io faccio parte di Music Art con Pier, ci conosciamo da più di vent'anni quindi siamo carissimi amici oltre che ottimi colleghi siamo tutti molto affiatati all'interno di Music Art questo affiatamento ho proprio fatto in modo che nascesse il progetto Beat Zone perché il feeling è stato immediato cioè la serata di prova, diciamo la data 0 ma ancora meno la data meno 1 che era quella dove proprio c'era il bozzolo da cui è nato tutto è stata proprio molto intensa e subito dopo, finito questa performance, ci siamo detti sì, ok, andiamo avanti, ne vale la pena effettivamente ne è valsa la pena perché in questi quattro anni ci siamo tolti un bel po' di soddisfazione e poi volevo aggiungere che con Frida Kelly ho una foto deliziosa che mi ha fatto lei in cui ho sostituito George Harrison un bacio sulla fronte non ci credo un ricordo meraviglioso e poi l'ampliamento del nostro roster raggiungendo Emanuele è stata una chicca in più, è qualcosa che ci ha contraddistinto ulteriormente già noi eravamo, ci siamo accorti suonando con tanti gruppi che fanno i Beatles di essere particolari perché la nostra formazione diversa quindi l'accento jazz che metto io, l'impronta metal che dà Marco Peso e la tradizione e il cantautorato che ci dà Giulio Belzer hanno formato un qualcosa che è talmente particolare che ci fa distinguere insomma abbiamo avuto anche dei riscontri su questo di persone che ci hanno fatto i complimenti il nostro terrore magari poteva essere di non piacere al purista quello che proprio vede ogni nota perfetta dei Beatles però diciamo che il riscontro è stato buono anche con i puristi non ci hanno picchiato beh questo è positivo su questa nota indiana è molto interessante questo aspetto anche perché comunque i Beatles hanno avuto questa esperienza indiana e l'hanno proprio riportata e anche il sitar giusto? che suona il collè che suona anche tu a parte che è uno strumento che usate anche da imparare mi sembra music art certo c'è anche il corso di music art quest'anno anche un allievo di sitar quindi sono molto contento è un traguardo non indifferente anche perché parlare di musica indiana di strumentazione di questo tipo sofisticato a volte può insomma dare un peso non indifferente alla qualità della musica sì non è di facile impatto per chi è appassionato dei Beatles diciamo che è uno dei punti salienti perché la carriera dei Beatles è stata segnata con poche canzoni ma sono state così esplosive come Norwegian Wood il primo pezzo nel 1963 è Rubber Soul dopo tanto qua esalta 6 66 Rubber Soul è vero insomma è stata una cosa deflagrante all'interno di un fenomeno come Beatles che comunque era sempre stato visto fino ad allora come una rock band però in quel momento da quel momento in poi hanno cominciato anche un itinerario spirituale che è stato poi condiviso da tutti sì io ho imparato il sitar per completare il mio processo di erisonizzazione del tutto al 100% fantastico fantastico veramente sono in compagnia di due artisti e Marco ovviamente non presente insomma di rilievo in più questi due artisti mi vogliono anche bene perché grazie mi hanno portato il cd facciamolo vedere The Beat Zone con ben nove canzoni e una più bella dell'altra ovviamente che stasera in macchina sarà il primo cd che metterò e grazie grazie davvero di cuore e poi anche devo indossare mi sa dopo dopo il bagno ovviamente questa splendida maglietta dei Beat Zone con appunto Abbey Road dietro ultime cose poi andiamo a farci un bagno beh innanzitutto vi invitiamo tutti a venire sul nostro nuovo sito che da quest'anno abbiamo inaugurato cioè www.beatzone.it dove trovate le nostre date i nostri video i nostri prossimi appuntamenti le novità e tutto quello che ci riguarda stessa cosa vale per la nostra pagina facebook cercando Bizon il primo risultato è il nostro e poi c'è il nostro canale su youtube cioè Bizon Genova dove trovate tutti i nostri video che abbiamo fatto fino adesso più altre cose live prese dalle nostre nostri concerti lungo questi ultimi 3 o 4 anni e scriveteci e veniteci a salutare noi siamo contenti di salutarvi perfetto ultimi ultimo saluto eh ma ha detto tutto Belzer cosa si lo picchiamo lo picchiamo adesso adesso la foghiamo ma fregato ma fregato no va bene sì sicuramente l'appuntamento di Brescia e di Bergamo è molto importante recentemente così abbiamo aggiunto anche la nostra tripletta fuori casa abbiamo fatto alla fine di maggio anche lo Strawberry Fields Day a Rimini in cui era una manifestazione molto importante in cui c'era anche Filippo Fossati il figlio di Ivano e abbiamo condiviso il palco con lui siamo stati molto contenti e anche lì abbiamo avuto diciamo un ottimo un ottimo biglietto da visita insomma per per le nostre future performance quindi speriamo dicono che siamo stati bravi ma non lo so spero di sì 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 i risultati ci sono e si vedono bene allora noi andiamo a farci un bagno buon concerto a tutti e ci risentiamo presto ciao grazie ciao 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 ciao